Grande ragazzi, salve a tutti, siamo tornati oggi con una sorpresa qui per tutti voi, con SnailBob2 Quasi si è bloccato il bestemmio E vabbè ragazzi Bob è la lumaca che è ritornata Ah, qua, qua, qui Il ritorno di Bob Il nostro Bob si è da spedire in una casa tropicale E qua sono sempre i nostri achievements, i fedelissimi Ragazzo, ho avuto uno sdegno che ci vogliono 100 punti per inserire un commento e poter buttare le bestemmie Cioè per dire, uno scherzetto a qualcuno E quindi devo fare 100 punti con gli achievements Un gioco che vi consigliamo è questo qui, delle principesse L'abbiamo provato, è bellissimo, 5 stelle sicuro Ecco, andiamo Giochiamo ragazzi No, c'è Chieri, è un gioco No, non saltare No, non saltare questo step C'è il bestemmio Eh, sicuramente, è che no Non è il compleanno Mi trovo il regalo Un fiore Un fiore Un fiore Un fiore Dite il coso Va dall'ulzio E dall'ulzio E dall'ulzio E dall'ulzio Ecco il nonno Gioca Oh mio dio Quanto ci vuole arrivare Questa E tutto ciò che separa Bob e Romaghi Della festa di compleanno del nonno WONDERFUL Very nice Bello questo gioco si pronuncia però, no? Non capisco cosa serviva con la leva Comunque Dai Bob Dai Bob Dai Bob che ce la fai Dai Bob Suka, suka Poverini No, devi farlo cadere Ehm, mi serve il tuo guscio Ma crepa, suka, bastardo Che bestia ti sei Ehm, ti rickshot Cazzo fai? Abbiamo già sbloccato il primo achievement Sì, è il primo livello Ah Che bestia No, no Johnny, ti sei una bestia Sei una bestia Veloce, veloce, veloce Veloce, veloce Veloce, veloce No, ragazzi Mi piace per Johnny Che è una bestia In questo gioco Ha capito? Non ti devo dimenticare Veloce, veloce La velocità di Bob La velocità di Bob Via, via, via Johnny, parla E niente Ragazzi Abbiamo finito Anche il livello 5 Eh, perché se no Mi sono andato qua a giocare Capito? Per questo Johnny, ragazzi È troppo bravo A questo gioco Ma è bellissimo Poi soprattutto La cosa più bella È che praticamente È divertente Come Come sto cazzo No Dico No Dico Questo gioco È divertente Perché uno Ti prende gli achievements Tipo C'è non è un cazzo Che faccio Non lo stiamo facendo Giusto per scherzare Adesso Però c'è gente Che ci gioca davvero C'è C'è per dire C'è ci sono persone Che tipo Non vanno Non vanno a mangiare Non puoi giocare A Call of Duty Non puoi giocare A Bob la lumaca Ma è normale Però è appassionante È nada a dire Ed è il secondo Hanno fatto il secondo gioco Mi pare anche ovvio Ok E cos'è questo Oddio Tenta Bob Ah Ho visto un bug Già i 3 bug Ci sono stati Però vedi Ci sono più cose di livelli Adesso Belli È vero No No Non sping L'intelligenza di Johnny È questo Attento Ma stardi Si vogliono mangiare La nostra lumaca Poverine però Secondo achievement Ok Guardo le cose di ritardo No Il contrario Il contrario Bravo Bravo No C'è una stessa vista Devi farlo cadere No Devi farlo cadere Devi farlo mettere Il bravo Si Mi cagare Gioca a Bob La lumaca 1 No No Oddio Ok Sì ragazzi Questo gioco È normale Tranquillamente Voltiamo a giocare A questi livelli strani Star Wars Dei trascinare Johnny Gli ultimi Siete ultimi Contendo un saluto Al nostro Aram Che continuano A rispondere Al telefono Sarà che oggi È incazzato Il nostro Aram Continuiamo Allora Questo è difficile Prende il pulsante Johnny No Un po' più Altro Di metterlo Un po' più Altro Di metterlo Un po' più Ah ok No Johnny Che sei una bestia Livello 13 Di già Te ne hai Di che conto Eh beh Adesso Dove Terminare Il primo Vabbè Facciamo Sultimo Livello Attento Al corvo Ah Oddio Lo vedo male Oddio Oddio Cioè Sei un grande No Che pezzo Che pezzo Di merda Ha fatto bene Fa per due Vai Eh Suka Grande ragazzi Per questo secondo video È tutto Un salutone Da Da Johnny Da Kenjo Alexi Da Bob La Rumaga Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao